Buongiorno a tutti da Alessandro di 4V d'Italia. Oggi andiamo a vedere una cosa che potrebbe esservi utile qualora voleste navigare sul nostro sito che è 4vditalia.com. Innanzitutto vi faccio vedere quelle che sono sostanzialmente i nostri servizi e le cose più importanti. Come primo servizio noi abbiamo più sedi in Italia, abbiamo una sede a Milano, anzi a Cusago, in provincia di Milano, da quella dalla quale vi stiamo parlando, una sede a Roma, una sede a Langherano e una sede vicina alla Svizzera. Queste sedi sono sostanzialmente delle officine convenzionate, questa è una, nelle quali voi potete andare ad installare i pezzi che comprate da noi. Questa cosa è fattibile anche proprio attraverso l'acquisto sul sito, nel momento in cui siete al checkout potete scegliere il ritiro in store, scegliendo tra i 4 che vi ho appena elencato, in questo modo avete due vantaggi, primo non pagate il costo di spedizione e secondo vi potete mettere d'accordo con l'officina che avete scelto per l'installazione del tutto. Un'altra cosa che avete visto nel nostro sito sono le preparazioni omologabili che sviluppiamo da tanti anni e navigando per categoria, poi vi faccio vedere come si fa, potete capire quelle che sono i nostri allestimenti, i costi e quant'altro. Questo è un altro aspetto importante, che se non trovate qualcosa su questo sito, benché ci siano tantissimi articoli, credo più o meno intorno ai 6 mila ormai, c'è la possibilità di contattarci tramite questo form, oppure vi dico molto più semplicemente, mi hai mandato WhatsApp al 338-73-12725 e tramite le immagini per noi è molto più semplice capirci, comunicare e quant'altro. Andiamo oltre, una cosa anche abbastanza interessante è che per esempio nel nostro sito si possono effettuare dei pagamenti rateali tramite Scala Pay, che è una cosa molto comoda, vi basta avere una carta di credito, sono senza interessi e quindi è un altro servizio che forniamo. E poi in questo momento ci sono delle promozioni, c'è una promozione del 15% su tutti gli articoli a marchio Quadratec e di altre marchi di loro proprietà e nel nostro sito di articoli di questo genere con questi marchi ce ne sono tantissimi per tutti i modelli di Jeep. Un altro aspetto è sempre di tipo promozionale in questo momento, ma sono promozioni che vengono aggiornate costantemente su tutti gli accessori Rock Country, Rock Country significa settima, significa anche tanti altri accessori e un'altra promozione sempre al 15% per quanto riguarda gli accessori dell'OFD. Per la navigazione sul sito vi consiglio un metodo, che è quello che uso io, ce ne sono altri, ma quello più semplice è questo. Voi andate nel tasto My Garage, selezionate il vostro modello di Jeep, adesso io sono senza occhiali, diciamo che credo di aver scelto JK e a questo punto avete filtrato tutto quello che non vi interessa perché non riguarda il vostro modello di Jeep, poi navigate per categoria, sempre se la tecnologia me assiste e andiamo a prendere che ne so gli accessori per interni, a questo punto vi trovate tutti gli accessori interni per il vostro modello di Jeep, quindi la scelta è molto più semplice. Potete utilizzare ulteriori filtri e quindi quello che vi consiglio comunque è sempre di partire con il vostro modello di Jeep perché inizia a eserci veramente tante cose e se no la navigazione diventa complessa. Detto questo, se non trovate qualcosa che magari c'è comunque sul sito, anche qui contattatemi via WhatsApp sempre al 338-73-12725 e vi mando il link diretto all'articolo che state cercando oppure se non presente vi mando la foto, il prezzo e quant'altro. Per un appassionato di Jeep questo è un po' il paradiso, vi consiglio di visitarlo e poi mi direte se vi piace. Buona giornata.